Oggi 31 dicembre 2019, Cristian è di nuovo a Trapani, ciao Cristian, sta giocando, e qua c'è il monellino di Alessandro, alzati Ah che bello, tira la palla, tira, bravo, dai un calcio, dai un calcio, bravo Prendi l'altra palla Ecco qua, così, bravo, 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 così, bravissimo, tira il nonno, tira il nonno Sì Bello Tira Bravissimo, bravissimo Bravo Ehi, aprilo, aprilo, aprilo Si apre Eh, si è gillata Non si può aprire? No No Bravo Ecco, 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 questo è molto per la nonna Nonna Per la nonna, dalla la nonna Scrivi No Dai, scrivi Grazie a tutti 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 Mamma Nonno 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 Bravo Mettilo giù A terra A terra Mettilo a terra Mettilo a terra Mettilo a terra Mettilo a terra Ma questa è la moto di papà ehi Zai bella Suzuki questa è quella questa è rotta è rotta amore è rotta papà l'hai inzatera vieni e questa guarda nooo wow auguri di buon 2020 cerca un bel colore quella che è Sirio quella guarda metti la guante fermati ne facciamo un'altra dai spiegati aspetta auguri vieni qua così vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua che te la fa? stai fermo che te la fa? il pantalma dai tira bravo bravo bravissimo bravo prendi bello 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 vieni qua vai vieni qua vieni qua passa sul sinistro vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua guarda guarda dove guarda dove è la palla vai un calcio ecco qua bravo col destro pure vai 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 boom 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 primo gennaio 2020 con Alessandro che sei da poco svegliato una donna cacata Alessandro togli tira tira bravo 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 siamo alla stele capodanno 2020 io ne ho 5 le porchette abbiamo cambiato abbiamo cambiato solo posizione di tavolo per la forma che bello 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 un po' veloce tutti poi soffermarsi dove sei dai 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 facciamo la grata la la come ti ha offeso la tua moglie non è forte niente vedo vedo già come sopportazione sia la manetta ma tra pianto di cosa tu mi fai è un po' un po' un po' un po' un po' ma si mi sa una volta eh cioè in un po' un po' un po' non è buono dai di volevo non un po' non un po' un po' un po' un po' buono buono una coca grazie buon cin 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 Buon anno Buon anno Cin 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 Che bello sto bimbo che ha fatto cin cin con il non e con tutti Beve Giustamente E' buono che questo pane E' un pezzo di pane Non mangia 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 Grazie 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 Non si tocca Quanto tempo Già stanno in bicicletta Lo vuoi? Si 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 Abbiamo iniziato adesso gli antipassi Si 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 E' finito di mangiare Cristian è finito di mangiare bello ciao no sono sazio ciao 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 bello ciao 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 ah io non ti voglio più qua non ti voglio più non capisco che stavo dice non ti voglio più non ti voglio più non ti voglio più non ti voglio più un cappello di ieri un cappello di ieri un cappello di ieri un setto e un progetto busiatevi con gamberi ieri 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 l'altro giorno ho mangiato pasta colicce diciamo, non ce lo volevo dire ma dove? lì all'Alabama salatenda no no l'Alabama il l'acqua marina bravissimi ancora? no? guarda il cuscus il cuscus il cuscus dovrebbe avanzare avanza che lo do grazie bello stai buono stai buono stai lì stai oi oi aspetta che tu faccio una bella così tu lo sei Alessandro guarda il nonno che bello 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 così bravo anche l'acqua anche l'acqua certo fai un bel sorriso al nonno al nonno vecchio forza 72 72 no no più su più su più su 88 no 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 così non si fa no no ti tagli così così si usa il nonno ha paura ma male prendila 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 potoletta non si fa allora ascolta così non si fa soffiati il cusco sono confusa brutto bello bello che c'è che c'è che è sonno buono è quel che ha addorbito infatti che è bello vederli mangiare a tutti e due che è bello mmm bravo bravo aia 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 bello aia oi oi aia 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 prini qua aia 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 Non ti prendo, non ti prendo, non ti prendo, ti alzi, ti alzi, ti alzi, lei che si ci si è visto riuntato. Buongiorno, ciao Giampiero. 2 gennaio 2020, vieni qua, girati, dai il gamberetto, bravo. Adesso, posso mettere gli altri o ne vuole ancora? No, si mangia la pizza poi via, poi si mangia un po' di pesce a spada con Cristo, ce lo vuole. Di grazie la nonna, è pesce a spada che posso mettere in quella padella? Si, si, già non ce la posso fare, non ne vuoi più. Ah ecco, bravo, mi fai mettere la padella? Ha studiato, io lo vado, siedi qui, il bimbo mio ha studiato, bravo Puffo, l'ha interrogato la nonna, l'ha interrogato. Anche Chris ha fatto sbaglio, come fa saporito, come ha fatto, se l'ha vedita, ma non ci vediamo. Oggi, come ne vedete, riuscite? Non li vediamo neanche a voi oggi. Ok. No. Domani? Non si sa. Cosa ne vedete stasera? Come ne andano via? Si che io e i nonna siamo d'accordo che giochi col telefono, guardi la tv e così consumi più energia. Infatti oggi ha studiato. Ha studiato l'energia ed è giunto così. Non si vedono se ne ne troverò la tv. O guardi, telefono o guardia la tv. Oh, è la tv. Nonno a lungometraggio. Capito? 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 Tieni, Honey, vuoi assaggiare il gamberetto? Ma chi ti ho detto? Scusa. Buono, buono? Si, si, si. Si sta allegando il pan a pello è ladoare. che buono, degliano un altro, vediamo se... no però non... non gradisce, l'ha mangiato però quello la si, si, com'è? buono, buono sono freschi, appena sbucciati bravo bravo, va bene? bravo bravo bimbo sei veramente bravo siamo? no Alessandro? no bello siamo? no finisci di mangiare, dai, presto fermo, fermo fermatevi da vicino a fratellino aspetta un minuto che vi faccio una fotografia a tutti e due oggi cinque gennaio 2020 così si fa vai ciao siamo all'autogrill hai dormito, bello? che tardi? eccola, vieni papà dove sei? ciao ciao ciao, bello quanto era bello pure Cristo quando siete venuti a maggio e l'ha fatto il? filmino a maggio certo che ho fatto tutto io poi non ce l'ha a casa? si no guarda il termini merese visto termini va la fiat la faccetta da padrona grazie 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 Cristiano da Farato ciao bello chiudi un attimo dove sei? ciao ciao bello ciao si vede dopo dopo cale papà sta facendo la benzina si vede vulcano aspetta sta facendo la benzina assa leonardo arrivati qualche mandarino è pieno carico sempre bravo cristiano bravo ne preso mandarini e la le ha lasciati quei due che c'erano bello a san leonardo bello si si buttali chi li manda più lontano forza bravo ancora più lontano bravo 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 andiamo andiamo bello vai a raccogliere le arance si prendi prendili vedi che bella lei sono una bella spremuta d'arancia il nonno del nonno mamma 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 ti piace qua dai buttalo ma ne passi una mancia mamma 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 bello attenzione aspetta qui a scendere viaggiare di quale vanno funziona hai salutato Matteo? sii come no Matteo come hai il ca no 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 ci cade allora ci cade alla prima volta ci sei già Alessandro vieni qua dal nonno vieni vieni qua no 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 è bello sei già fidanzato hai capito sei fidanzato ma che hai capito sei fidanzato Buongiorno. 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 Il nome? La nome. La nome. Sì sì. Ok, ho detto il primo. Signore, non lo fate. Guarda questa cosa qui. Le mette in un dischetto. Le mette in un dischetto. Oggi a me ricordo come si mette in un dischetto. Come è che io... Papà a due anni riusciva a farlo questo. Chi? Io? Non lo sapevo. Ma manco mi muovevo la mano io allora. Scusate, telefono speciale. Chi soppone speciale? Io ho il telefono che non funziona. Viene arrivato la mia foto. Qua tu ce ne sei le stesse. Capito? Questo passo laterale. Questo passo laterale. E poi lì. Chi lo vuole andare. Qua tu sei il cero il tuo. Un po' di fritto. Vistina dove sei? Un po' di fritto. Un po' di fritto. E sono due. E poi lì. Ok, ok. Voi? L'hai qui qua. Vedi che dà loro. È arrivato con il tuo passaggio. Sono arrivato. Ci sono arrivato. Ciao. Ciao. Questa tua sorbetta. Non lo so. Ciao. Ma è sempre così. Ciao. Ciao. Sul passaggio. Non c'è nessuno. Allora. Sorbetto. Toi. A ti è arrivato il bambolo? questo qua è il suo Alessandro? forse è mio ma ma dov'è il mio? anche mi sei la forse è mio grazie poi ci metto la panna no io ci metto la panna poi un'altra strada poi la panna io il gelato è dolce non lo faccio io no non mi me la tagliare la mia famiglia ha chiesto di me ma no vedete vedete c'è basta no no io ho pochissimo grazie no no poco ci basta vedete basta basta Enrico assaggia il suo pastiglio di pantelleria cin cin tu non bere che devi guardare tu devi dormire prima a gusto a gusto meno un goccino ah si si basta basta c'è un bicchiere non lo voglio dire non lo voglio dire zia non lo voglio dire non lo voglio dire zia alè una foto Alessandro dove è Alessandro? dai per l'ultima oggi aveva due telecamere anche la zia Busa dai così bravo sotto i riflettori mamma mia come se li fa mangiare bene bene un dico un dico dai cosa ancora muore si no l'hai buttata là dentro valla a prendere valla a prendere valla a prendere oggi è la Befana giorno sei giusto? si sei gennaio duemila e venti ah e Alessandro sta giocando Alessandro guarda il nonno Alessandro Alessandro dai Alessandro dai Alessandro che bello dai Alessandro dai 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 un bacino dai un bacino al nonno bello 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 con il suciccio che va sul suciccio avanti dai un altro bacino davanti un altro bacino un altro un altro e basta mamma mia quanti un altro solo e basta un altro un altro bacino eeeh un altro bacino un altro bacino un altro bacino basta non vado male è la prima no non bello ciao ciao alessandro ciao 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 due patate abbraccia la mamma abbraccia la mamma non vedi l'ora di andartene da noi allora abbracciami dammelo quasi l'acqua che belli questi bimbi che fare cucciuccio che devi fare cucciuccio prendiamo il telefono che vi faccio una foto un attimino dai allora cristian percorso via veloce veloce ascolta questo ma non lo taglio dai veloce no vicino un piattino e la faccia io la foto a lei non si vede niente dai no no faccio io qui e poi lo vedo io la carta ti metto no come se fossero fatte in casa lei va a sta carta e bottiglia non lo so allora niente metti ecco e prendi prendolo però lo devi mangiare tutto sì ecco mangia ora bravo se l'ha aperto tutto da bravo sei bravo sei bravo e che bello questo bimbo che bello questo bimbo ti conserviamo no 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 così eh perché sennò ha paura che l'hai paura che l'hai paura vieni vieni ecco Alessandro no è ferretto no 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 bello 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 bimbo famoso mette qua bene lui è contento ciao che bello questo è un tiroleco si un lego 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 si un lego